Let's play Ma facqua C'è cazzo di pantaloni giai Ma lui è per agosto? E le domeniche ed agosto quanto caldo che farà? Ok basta bere vodka ragazzi Allora io mi son vestito elegante per l'occasione Tu osi dirmi che i miei pantaloni non sono belli Guarda Hai presente i pipi calze lunghe? Sono uguali Oh bravo Meglio così Hai visto quanto è brutta Guarda che c'hai pezzami sulla chestplate Guarda guarda che schifo Io lo distraggo e ti scappa Si ok ok Vi ricordo chi ha la console Scangendo tutto Cambio programma Allora David spiegaci la mappa tu che la conosci Cos'è che devo fare io? No Non si fa così Si fa così No no non mi chiccare Non mi chiccare No ho piccato lui tra l'altro Ok Questa è una mappa adventure Oh Pronuncia la parola Adventure Ah con pronuncia la parola Adventure Bravo Così si dice Praticamente questa è una mappa Per esempio il Grinch Si Grinch La storia del Grinch Quello verde Questo Bravo proprio quello Uguale proprio Si Praticamente questa mappa racconta cosa è successo dopo le vicende del Grinch Ma scusa quali sono le vicende del Grinch? Facciamo funte di sapere Eh quello che voleva rubare il Natale Ah ok ok Quindi ragazzi se riuscite a vedere questo episodio Che uscirà a Natale Il Grinch non è riuscito a rubarlo Giusto? No Io lo farò in maniera che lo rubi Ancora ho capito Io lo farò in maniera che lo posso rubare Ho detto che succede dopo no prima Davids la finisci di litigare con il Ehm Secondo me se noi abbiamo Eh come ce la farò? Ehm E continuo a metterle a togliere Possiamo cominciare per favore Guarda che te puoi andare io si riuscirò proprio un po' Ok va bene Doc facciamo finta che lui non esiste Presence can be looted Sai che significa Doc vero? Si Questo regalo può essere ehm Preso Ce l'ho fatta Guarda ce l'ho fatta Si Uguale E' più o meno come quello di prima Un pochino cambiata la saturazione dei colori però Si ma sembra guardare il dettaglio eh Your last can of who hash Ma che cosa vuol dire hash ragazzi? Hash Hash da qui Hash Ehi e Akon Lash E ogni tanto Beh questi sono i credits della mappa Siamo alla quindicesima regola Questo 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 Ok Play Giocare in pace quindi ragazzi Amen State tranquilli Il papa è con noi No placing block unless instruct Allora se non vi istruiscono su come mettere i blocchi voi non li usate ok? Ah se no si incastra ho capito Si se no Don't break or burn Allora non dovete rompere o bruciare gente Chiaro? Capito Danny? No ma hai rovinato il piano Capito Danny? Non puoi bruciare il Grinch Lo puoi solo picchiare Lo rovinato il piano Ok E qui c'è scritto sta roba C'è Fa leggere bene E questo Vedi Poundaries E' una roba dei siti porno me lo ricordo Poundaries Giuro E' vero Vai avanti E' un cartello 6 Rayville coin ario score Ok Allora ragazzi questa prima di tradurre me la ve li rubo tutti io Guarda che frigo No prendi questo Questo è fighissimo Guarda un po' Oh che cos'è? Texture Pack Grinchmas Difficulty Paceful Scoring Aspetta vediamo se cambio un po' i miei score Sono le regole tascabili Andiamo avanti Eh andiamo Io c'ho la bibbia Seguite la sacra bibbia di questo Natale Ma ancora non abbiamo finito a leggere le regole Ma chi se ne frega dai Mi sono stufato di star qua E' piccolo Ho cazzo avanti i cartelli Quale regola? Senti ma io c'ho tutto il manuale qui portatile Sì ragazzi Quest'anno porto il carbone ad acqua Allora Ok Che cazzo dice qua? Dice di passare alla porta successiva Come cazzo? No mi sa che ragazzi dobbiamo leggere E ti tocca vai Non so cosa fare Allora Che cazzo si Dopo 20 anni Hai iniziato la tua avventura Nel vecchio ascensore Tu stai ritornando dalla rottura Hai perso Your last can of hash Che cazzo significa? Questo 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 Aspetta Questo lo togliamo Perché non so cosa significa Non so cosa significa Alla fine ci capiamo una sega Però vabbè Heading back to your job Quindi tornando al tuo lavoro After dumping your trash Dopo aver buttato la spazzatura Ah ma questo qui E' la sala da pranzo Vedi i tavolini Qui ti siedi E questo è il cibo finito Questo era il confezione di cibo E quindi buttarlo qui dentro Esatto Perché David's forever alone? Perché è bello Ora apro Butto dentro E infatti Si è aperta Giusto Oh ragazzi aspettate C'è un altro suggerimento Che è uscito fuori Dopo che Dove? Lo vedo No Quanti cazzo di cartelli Ragazzi Me lo dovete dire Che mi devo ripetere l'inglese Prima di fare sta mafa Quante pretese che hai eh The button says up Quindi il bottone dice su Questo bottone Pensavi che i tuoi spiriti erano giù Indietro Ehi Chi c'è dietro di me? Tu giù Destra Sinistra You go with a throne Che non so cosa sia Quindi Togliamolo C'è un bottone Mio Penso Ok Che figo Dobbiamo salire penso eh Credo che devi pigiare il bottone Vai Oddio Oh Oh porca Oh ragazzi la fabbrica dei regali di Babbo Natale Oh Oddio Oh Oddio David Ma è vuoto mi hanno fregato Tutto vuoto Come esci da lì Ok ragazzi dobbiamo leggere Ok Smettetela di fare Penso che questi erano i livelli Allora penso che qua devi tirar giù una leva Una però Eppure l'altra Tutte giù Eppure l'altra Oh cacchio Sputa Ma sparate i coin Oh continua A spararmi coin No non ne ha più Non ne ha più Lo preso tira Aspetta Porta l'apribile solo in caso di emergenzia Aspetta adesso sono altre levi Aspettate ma qua ci ha detto Di tirar giù la leva lentamente 6 volte Il nostro lavoro Ah quale Quella Ah vai 6 volte Oh cazzo no aspetta via davids Ho sentito Cosa è successo? Buongiorno Io non sono stato E te l'ho detto di via davids ho sentito il rumore della Ho sentito una botta al culo Guarda che figo mettere un rucetto di natale Allora stava qua diventando una cosa pericolosa Decisamente Beh provava la bomba sul culo Ma aiutare la vita Ahahah E' stato bellissimo Si Ok guarda che cacchio vuole Return all flit frangler property when un clocking out Broom 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 E' successo uno strano incidente Eh si chissà perchè One more day half pay Un altro giorno mezza paga Perché davids fa casino mi sembra ovvio That's the third time this week Davids ce l'ha con te il gioco Cosa? Ce l'ha con te Sta dicendo che fai bordello ogni giorno e ti pagano la metà Sono poco natale Te ti metto pure la lucetta Tipo cimitero Aspetta che mi scade il culo e freddo Ma è esplosa una bomba Ok Vai leggi Vai leggi Guarda Oddio Forse è qua Che? Santo cartello Hahahaha Cosa? Guarda qua quanti cartelli Madonna santa Porca di quella Comunque ci eravamo fermi a questo cartello davids Allora Eddn Alla fine del mese Ehm Davids Dai Ah ok La fine del mese Uno si doveva Uno si doveva lavare Ecco Infatti dovevi andare al pub Ma Poi ti è toccato lavarti Ma non ci sei andato Ancoli Ragazzi 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 C'era una regola che diceva che i ragazzi non devono stare uno dietro l'altro Ok Problema non c'è più Ecco siamo da soli E' intimo questo punto E' intimo Doc Ma vorresti partecipare anche tu a questa cosa intima Scusa come sono arrivato qua io Che cazzo ci fai lì davids Ti sei saltato tutti sti cartelli non va mica bene E leggili no E' freddo te Allora Ascolta Seriamente credo che voglia dire che io sono diverso da tutti gli altri Cioè noi siamo diversi da tutti gli altri Allora quindi noi siamo uno Io sono la testa Io sono la Tu sei la pancia E lui è la testa di Va bene Sì lui Ok If you use the right skin Se hai usato la giusta skin No Aspetta Ok Non serve You have quite an out Ok Time to lodge a complaint Ah e quindi è tempo di complimenti Devi andare dritto Davanti a te Of the Flitz Flitz Frank chain Nella Nella Come cappero si chiama Nella catena di Flitz Frank Eh la Il posto dove lavoriamo E perchè il Grinch insomma Ok The two toys Ah qua dice che devi pure andare in bagno Perchè mi sa che è arrivato il momento di lavarti davids Ah vado Eh si vedi Toil Eh si sempre dritto Tu vai No e di qua e di qua Questa è casa mia vado Vedersi Scusa E' il bagno Stove l'intimità Eh scusa Ma la finisce di bloccarci in giro qui nel bagno Non voglio stare nel bagno con te Ancora devi iniziare l'avventura Non vorrei mica dire eh Oh voglio uscire Questa mappa deve uscire a Natale e non a Pasqua Green gear to green year Cosa vuol dire? Adesso vieni qui e lo traduci Cosa vuol dire? Vuol dire orecchie verdi su un orecchio grignante Andiamo avanti Dove cazzo l'hai letto orecchio? Air significa orecchie, è l'unica parola che sapevo Hello, mother, I am home Ciao mamma Non entrate a casa della mamma che quella inizia a parlare e non la finisce più Bello Questo è il ritratto della mamma Bello, guarda il figlio Aspetta, stessi baffi Vediamo È vero Mamma mia, notate una certa somiglianza? Stessa faccia da scemo Uguale Questo no Cosa? C'è la foto di mia madre nuda? Non ho capito Cosa c'è lì dentro? Guarda David Allora To vomit me concern Bla 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 Bella Vieni David Guarda il resoconto dell'ultimo mese ho trovato La polletta della luce Ok L'ha finita di riempirmi di merdacci? Oddio Un ritratto di amu mamma Cos'è? Basta Ho capito Ragazzi non sono un cestino dell'immondizia, lo capite? Allora iniziamo sta mappa Ma morale della favola qual è? Che cazzo? Dobbiamo uscire da sto posto? Basta Ah è quella la morale della favola Sì E non si ha No Ah ecco si è aperta Cosa? Veramente? Ma se tolgo la lana verde si chiude? Ah no c'è una pressur plate Ah 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 Ecco si è aperta We get shoot in our shoes Abbiamo preso dei colpi sulle nostre scarpe Vabbè io penso Le scarpe? Sì C'è scritto Cazzo di come Non lo so Ok Siamo arrivati al parkour Più o meno No No Oh cartelli Mamid Oh sì 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 You must be close now Sei molto vicino Dovresti vederne la cima ma e devi tutto a posto il problema è che mi son bugato nella neve hai fatto davis rimani lì dai ma perchè siete scegiti tutti e due non lo so come si è bugato nella neve via oh mio dio ho avuto uno zoom di davis non sto non sto venendo lo sto qua stai accendo aspetta gli dobbiamo dare il ritratto della mamma aspetta forse ora come si è chiuso il ponte il ponte apponente si è chiuso che si dice come il ponte apponente si è chiuso e lì sotto c'è una grotta una grotta qui sotto una sabbia c'è una grotta non è la prima vabbè se si è chiusa si evidentemente si fordos wonderful tools c'è un altro distributore qui ragazzi ma che state trovando sempre coin I've got toglietemi non riesco a leggere levatevi oh vabbè I've got no time for you non ha tempo per noi and as you enter his lair che figo ok ragazzi penso che questa sia la casa del Grinch a sight catches your eyes a portrait of mom eh sì c'è sempre il ritratto di mamma non capisco perché insomma sto Grinch un po' pedofilo ragazzi direi che siamo arrivati nella casa del Grinch con il ritratto c'è anche il nano c'è anche il nano di Natale non è che abbiamo sbagliato storia no questa era di Pinocchio no è che secondo me è la versione tarocca della storia vera eh sì anche secondo me comunque oh aspetta 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 no no non funziona tanto bene avevo detto di non bruciare persone ok l'avevo detto eh l'avamo detto di non bruciare persone e guarda qui boh per cui buon Natale ma che cazzo ok va bene ragazzi io andrei in chiusura ci vediamo nel prossimo video se riusciamo a sopravvivere alla notte penso che ci scalderemo qui ben benino in questo appartamento fa tanto caldo eh ok se vi è piaciuto questo video ragazzi lasciate un like commentate condividete ma Cristo guarda mi hanno fatto diventare un supereroe sembra che c'ho la maschera in faccia ragazzi se muoio va a marzo ragazzi se muoio va a marzo ok ci vediamo nel prossimo video ragazzi stavo per dire di passare dal canale di questi due anzi dal canale di Doc non passate perché quello che sta facendo bordello si stai dando fuoco alla gente ecco e se volete passate anche dal canale di David ci vediamo nel prossimo video lasciate un like commentate condividete e se siete arrivati fin qui scrivete nei commenti la finite di ridermi dietro non ti parlo mi stai cacciandosi continuo tu stai fuori non hai capito scrivete nei commenti hashtag doc stai fuori ok ora avrai 2600 persone che ti scrivono hashtag doc stai fuori ok ciao a tutti ciao ragazzi buona pasqua buona pasqua